E' emozionante, pieno di solidarietà, dove abbiamo visto ridere tanti ragazzi, ci siamo divertiti anche noi adulti, tanto. E' da rifare, stare tutti insieme così è da rifare. Ringraziamo un sacco di carabinieri che ci hanno dato una mano e questi ragazzi meravigliosi che vanno negli ospedali e danno una mano. Quindi supereroi carabinieri, supereroi, metti insieme. Sì, sì, un incontro di supereroi, un bellissimo incontro di supereroi dove anche i nostri ragazzi sono di supereroi. Grazie.